Loro oggi non sono qui esclusivamente per fornirci delle fantastiche e meravigliose conoscenze sono qui per cercare come dicono loro di salvare il salvabile perché loro dicono voi vi siete inseriti in una strada che non porta più all'evoluzione finché voi facevate le guerre tra di voi guerre di conquista noi vi abbiamo lasciati in pace siamo intervenuti mai o quasi mai per dirigere la situazione ma adesso voi avete scoperto una tecnologia che non è per voi non sapete utilizzarla voi siete come un bambino che tiene in mano una fiamma che sta e sta bruciando tutta la casa parlano dell'energia nucleare la scissione dell'atomo o la fusione dell'atomo quindi bomba all'idrogeno queste due bomba atomica e bomba all'idrogeno poi questi sono termini popolari ma così si chiamano sono un rischio enorme non soltanto per la nostra civiltà terrestre perché altrimenti ci avrebbero avrebbero continuato a lasciarci in pace ma sono sono un rischio enorme per l'integrità del pianeta terra e per gli altri pianeti oggi sulla terra ci sono decine di migliaia di testate nucleari ok un decimo di queste quindi poche esplosioni atomiche possono causare la fuga dell'asse terrestre per non parlare delle sperimentazioni perché per farle esplodere stanno sperimentando hanno fatto sperimentazioni nel sottosuolo negli oceani in atmosfera sulla superficie terrestre dappertutto sti pazzi malati mentali criminali assassini che dio li abbia in gloria l'accumulo di radioattività è come nei processi chimici laddove tu puoi mettere la goccia all'interno della sostanza che deve reagire tu puoi mettere tante goccioline dell'altra sostanza che porta alla reazione fino all'ultima gocciolina quella è immobile e sembra inerte arrivi all'ultima gocciolina e la sostanza reagente esplode così sta accadendo la radioattività soprattutto nelle parti alte dell'atmosfera dove le condizioni non sono uguali a quelle che viviamo qui a questa altitudine sono diverse sono più delicate sono molto delicate il pianeta è un organismo delicato il pianeta è una madre il pianeta è una creatura meravigliosa che va custodita che va curata che va preservata che va amata che va aiutata a crescere a svilupparsi noi invece la stiamo violentando la stiamo stuprando la stiamo massacrando in tutti i modi da decenni voi volete che i figli maggiori della madre cosmica non intervengano per dire oh terrestri cari presunti signori della vostra creazione qui c'è qualcuno più forte di voi che vi dice fermi fermi ravvedetevi 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 perché potrebbe arrivare il giorno che noi fratelli maggiori riceviamo l'ordine di annientarvi completamente loro dicono noi non veniamo qui per distruggervi noi non veniamo qui però neanche in gita turistica noi siamo qui da sempre cerchiamo di aiutarvi indirettamente quindi per interposta persona contattisti oggi profeti ieri sciamani l'altro ieri ecco noi esseri superiori per interposta persona cerchiamo di aiutare per interposta persona per il semplice fatto che noi dobbiamo mantenere intatto il nostro libero arbitrio loro non possono scendere con l'astronave dire ah siamo più evoluti adesso fate questo questo e questo e anche voi evolverete non funziona così l'evoluzione in tutto l'universo non funziona così ce la devi fare da solo con degli aiuti dall'alto perché la dimensione superiore trascina verso l'alto ti tende la mano e se tu la la chiappi quella mano lei ti trascina verso il suo livello evolutivo ok funziona così scelgono delle persone e parlano alla società a quelli che hanno orecchie per capire no e occhi per vedere orecchie per udire occhi per vedere non tutti ce le hanno perché loro non fanno un'opera di convincimento delle masse forzata perché le masse non si convincerebbero mai altrimenti quel signore quel giovane quei capelli lunghi alto un metro e 83 di duemila anni fa quindi un gigante era praticamente duemila anni fa chiamato yashua quel nazareno quel nazareno là che a 33 anni l'hanno messo in croce a 33 anni l'hanno messo in croce perché toccava gli interessi di troppa gente ecco non avrebbe detto non date le perle ai porci e non gettate le cose sante ai cani ragazzi ha detto porci e ha detto cani poteva dire ai meno evoluti non gettate le vostre perle a chi non può capirle no ha detto cani e porci assimilandoli dunque al regno animale tra l'altro erano considerati animali impuri quindi proprio ha detto che l'umanità è composta anche di individui che sono animali impuri cioè sono assimilabili a quella categoria lì ma proprio a livello cognitivo quindi perché perché ha detto ma dopo averle masticate le vostre perle le sputeranno e tenteranno di sbranarvi è così o non è così ci avete mai provato a parlare di alto concetto a qualcuno del mondo beh ci ragiona lo sputa e ti vomita addosso tutte le sue cattiverie questo funziona così il grande scienziato più grande scienziato dell'universo gesù cristo ha detto la verità scientifico spirituale quindi è così quindi è di queste conoscenze non sono sufficienti oggi dobbiamo impegnarci nella società per cercare di portare un miglioramento loro si concentrano molto su questo discorso del nucleare ripeto è il discorso principale io ci ho scritto i libri